Nell'aria, aleggia una puzza di formaggio eccessivamente stagionato, se non di immondizia. La fonte? Tofu puzzolente. È il piatto nazionale. Ed è ovunque. È venduto fritto, bollito, al naturale o in versione takeaway. Spiedini di tofu puzzolente alla piastra. Tofu, spezie e cavolo fermentato. Sono considerati una prelibatezza e sono venduti in uno, due, tre banchetti l'uno vicino all'altro. Regola numero uno, vai dove c'è la fila più lunga. Aiuto! Mangiatelo voi! Carne di maiale fermentata, lingua d'oca e uova non deposte. Dai mercati locali ai cibi medicinali fino alla cucina aborigena. A Taiwan il passato si intreccia con il presente. Io sono Andrew Zimmern, benvenuti a Orrori da Gustare.